Maxi confisca da 9 milioni e mezzo di euro per l'imprenditore Giuseppe Lipera, originario di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, ma da anni residente a Caltanissetta. La direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta del direttore della DIA. La confisca, che segue il sequestro effettuato nel 2020, trae origine da una complessa attività investigativa condotta dal centro operativo di Caltanissetta, che ha ripercorso la carriera dell'imprenditore dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, accertandone la pericolosità sociale, nonché un'ascesa economico-imprenditoriale costellata da costanti e continui rapporti intrattenuti tra Lipera e il Gota dell'imprenditoria mafiosa. Lipera, già nel 2007, risultava condannato definitivamente per associazione mafiosa al termine di un complesso percorso giudiziario, le cui origini risalgono al 1991 nell'ambito dell'indagine del ROS della nota inchiesta mafia e appalti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Lipera, alla fine degli anni Ottanta, dipendente di una grossa società del Nord Italia attiva nel settore delle grandi opere negli appalti pubblici, non soltanto si prodigò in favore di quella società per ottenere illeciti vantaggi in termini di aggiudicazione e gestione degli appalti in Sicilia, ma grazie alla sua vicinanza al contesto mafioso, ne trasse personale illecito arricchimento tramite un'impresa a lui direttamente riconducibile. Una vicenda complessa e molto articolata che inizia dalla formale collaborazione con la giustizia a partire dal giugno del 1992, seguita successivamente dalla cessazione del beneficio dello speciale programma di protezione su espressa rinuncia dell'imprenditore che dal 2001 inizia, tramite prestanome, la diretta gestione delle numerose società a lui riconducibili operanti in provincia di Catania, Messina e Trapani. Un impero milionario conseguito in oltre 30 anni di attività imprenditoriale e rapporti d'affari, intrattenuti anche con diversi boss mafiosi del vertice della mafia siciliana.